Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti. Buongiorno a tutti. Allora, quello che stiamo facendo, quello che sto facendo in particolare, io credo che sia una cosa un po' complicata. Però, incredibilmente rispetto ai gufi e i corvacci che pronosticavano che questo governo avrebbe portato il peso in fallimento, B, che non avrebbe mantenuto le promesse elettorali, noi non solo non stiamo portando il peso in fallimento, anzi, addirittura, incredibilmente abbiamo migliorato il rating, questa cosa di cui parlano tutti, abbassato lo spread, ma, e la cosa più importante è quella di cui vorrei parlarvi, abbiamo fatto, cominciando l'anno scorso, con questa misura del taglio del cugno fiscale contributivo, di cui tutti si riempivano la bocca, noi l'abbiamo fatto in una misura che storicamente non si era mai vista. E ricordo che esattamente l'anno scorso, in tanti dicevano, sì, l'avete fatto quest'anno, ma non lo rifarete mai più perché non troverete i soldi, non saprete come fare. Bene. Allora, l'anno scorso noi abbiamo fatto questa misura che ha portato nelle buste paga dei lavoratori, delle lavoratrici, fino a 35 mila euro, una dote mediamente di 100 euro, l'abbiamo fatto per 13 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane, che quindi hanno avuto un miglioramento. Quest'anno non soltanto lo confermiamo, e quest'anno l'importo di questa misura, che cambierà un po' faccia perché l'anno scorso si chiamava decontribuzione, quest'anno la potremmo cambiare defiscalizzazione perché giustamente è corretto che chi lavora e contribuisce anche ai fini pensionistici in qualche modo si tenga conto anche di quei contributi che si versano e quindi prenderà un'altra forma, un'altra conformazione. E la cosa nuova è che non arriviamo soltanto ai 35 mila euro, ma arriviamo ai 40 mila euro, vuol dire che questi benefici ne godranno un altro 1 milione e 300 mila di lavoratori e lavoratrici italiane, avranno questa forma di beneficio che l'anno scorso non avevano. Non solo, le lavoratrici donne, madri, due figli e oltre avranno un'ulteriore forma di aiuto, di decontribuzione che quest'anno appunto si è estesa fino a loro e fin quando il figlio avrà 10 anni. Ecco, è un insieme di misure, poi ce ne sono anche altre in particolare vocate a tutelare la famiglia e le famiglie con figli perché come ha detto all'inizio Bucci, qui abbiamo un problema anche, se penso alla Liguria, purtroppo di invecchiamento, di difficoltà, poi sull'economia devi ritrovare anche figure per quanto riguarda i posti di lavoro. Su questa cosa abbiamo introdotto una misura ulteriore, nuova, che qui voglio, diciamo così, annunciare, ma se ne è già in qualche modo parlato, è questa forma di benefit fiscale, cioè fino a 5 mila euro sostanzialmente le spese che il lavoratore o l'azienda sostiene per l'unità abitativa per un eventuale trasferimento, sono sostanzialmente defiscalizzate e quindi non pagheranno imposte. Quindi come vedete ci muoviamo in una situazione molto complicata a livello internazionale che non aiuta alla crescita economica, ma la nostra finalità, il nostro primo obiettivo è di andare incontro esattamente a quelli che hanno più bisogno e credo che abbiamo dato dimostrazione concreta di questo tipo di sensibilità. Mi fermo qua e passo.